Salve a tutti amici di youtube, è qui Miki Perfect 36 che vi parla, benvenuti in questo nuovo video dove oggi apriremo un'edizione speciale dei 3 deck dei draghi leggendari Non ho preso quelli precedenti, peccato perché mi sarebbe piaciuto davvero averli, però vabbè, questo è il primo che prendo tra tutti E andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro, se non spacco tutto Macca boia Aspettata Dimenticato di prendere pure le forbici, ok Dove essermi rotto un dito Finalmente si è sbragato un po' E andiamo a vedere un po' questi 3 deck dragon leggendario che sono, devo dire, dei pezzi da collezione molto interessanti A livello di artwork Eccetera eccetera Allora andiamo un po' a vedere Qua abbiamo i 3 mazzi Adesso ne andremo ad aprire insieme Allora partiamo da quello pendulum che, guardate, farei prima buttarlo via nel cestino però Vorrei evitare Allora Ok, vediamo un po' Allora Ok Qua abbiamo un drago pendulum a bc occhi diversi Poi un altro drago pendulum a occhi diversi Una fusione Un drago sincro alla chiara Poi un drago x is ribellione oscura Questo qua dovrebbe avere un artwork diverso Poi ve le scorro un po' velocemente Visto che comunque vedo dalla telecamera che i... non mi si leggono Sì, tutta roba pendulum Però, vabbè La prima carta che non lo è Insomma ci sono anche delle buone reprint Questa qua mi sembrava fosse secret Questa super Anche questa è una bella Una bella cartina Dove terra formare Insomma un mazzo pieno di... pieno di carte Davvero Assurdo Ok Poi avremo modo di lezzare con più calma Andiamo con Uno che sicuramente vi interessa di più Allora Il mega flotta Questo qua è un artwork Pauroso Poi abbiamo le carte del... Mazzo cyber Un pochettino più realizzato Un infinity che non fa mai male Dopodiché sì Tutta la base Cyber drago Il drago Che è stato addirittura declassato a common Poverino Poi tre bei nuclei Le nagge Insomma c'è veramente di tutto E' reso un po' più... E' reso un po' più mazzo da torneo Ecco Cyber impianto di riparazione Sempre Comunque due copie Così Te ne fanno prendere un altro Sì insomma Le carte per fare Comunque la base Per il mazzo Ci sono Devo dire Poi ci sono anche le tre mirror Che sono delle ottime Ristampe Le fusioni cyber Con addirittura il chimera tech E due Nuova Insomma questo mazzo Devo dire che Rispetto al primo Mi piace molto Ma molto di più E sicuramente Per chi vuole montarsi Cyber drago Visto che me lo chiedete sempre Se potrà essere un mazzo da torneo Sicuramente Potrà essere un valido aiuto Allora Andiamo un po' Anche qui ragazzi Un'altra carta Mago nero Il cavaliere del drago Un artwork Veramente pauroso Stupendo Poi Una maga illusione Apprendista Se non riesco a leggere Poi Carte che comunque Avevano anche Delle rarità Abbastanza alte Come il circle Navigazione magica Poi Questo mazzo Non ha mai sfondato Peccato Perché comunque Era storico Mago nero Anche qui Numerose Coppie Più di una coppia Per le carte Diciamo un po' Principali Magia illusoria Sì Tutte le carte Ci sono sia carte vecchie Carte nuove Qui ragazzi C'è di tutto Qui ci sono le tre carte Per evocare I draghi leggendari Timaius Critias E Hermos Non me li ricordo I nomi Poi una bella pot Rinforzi d'esercito Sì Una bella mirror Giusto per chiudere E qua ci sono Altre fusioni Molto interessanti Drago tiranno esplosivo Sì Sono veramente belle Davvero Insomma ragazzi Questi erano I tre Mazzi Ditemi voi ragazzi Quale secondo voi È il migliore E spero che l'apertura Vi sia piaciuta Io davvero Mio parere Ragazzi Questo qua Del cyber drago È quello che sinceramente Ho apprezzato di più Perché Cioè davvero Gli structure deck Dovrebbero essere fatti così Cioè sinceramente Dove c'è tutto ragazzi Questo veramente È un mazzo Dove Più o meno C'è Tutto quello che serve Poi vabbè Qualche cartina manca Però Gli structure deck Davvero dovrebbero essere Fabbricati così Si può Dire Fabbricati Perché davvero Ma mi ha stupito Pensavo fosse Io non l'ho letto Lo spoiler Sinceramente Mi sono andato Un po' a scatola chiusa Giusto per portare il video Ma io pensavo Che si trattasse Del classico Monopair Monopair Dove ci vai a trovare Che ne so Il 2x di una carta Che non serve A una mazza Come può essere Sì la Non lo so Sì il cyber Corazzato Sta roba qua Invece Invece devo dire Che la Konami Ha fatto Un bel lavorino Perché ha portato Comunque una bella base Per non parlare Però comunque Che a seconda dei gusti C'è comunque Un mazzo pendolo E un mazzo Che ricalca un po' Quelle carte Drago leggendario Di Yugi Niente ragazzi Da Mickey Perfect 96 è tutto Ditevi che cosa Ne pensate Di questa apertura Ci si vede Ad un prossimo video E alla prossima Ciao